salve ragazzi allora commentiamo velocemente insomma ieri sera addio di diballa e chiellini io sinceramente per diballa sono molto dispiaciuto perché credo che questo ragazzo con un po più di di accortezza anche da parte della società costruire una squadra comunque che ne accentuasse comunque ne amplificasse le doti tecniche in avanti avrebbe fatto meglio invece abbiamo avuto tranne che l'anno di sarri delle squadre che lo portavano ad arretrare troppo e probabilmente fisicamente non è uno che può fare 60 metri di campo tutte le partite vicino vicino all'area secondo me poteva essere letale invece così non è stato i primi primi anni di diballa i primi quattro anni sono stati eccezionali il quinto con sarri un buon anno negli ultimi due sono stati da dimenticare quindi possiamo dirlo tranquillamente quindi è finita così su chiellini che lì è stato un grande della juve comunque in italia un ottimo difensore io non lo metto nei campioni personalmente l'ho sempre trovato uno con molte lacune tecniche e con troppi strafalcioni in difesa che ci hanno portato anche dei rigori e delle situazioni pericolose quindi non lo metto nei grandissimi difensori un ottimo difensore ma non nei grandissimi detto questo mi preoccupa anche molto il programma della juventus del futuro nel senso che se tu volevi ringiovenire la squadra e puntare a una squadra che in tre anni diventasse una squadra forte e con un futuro tu mi devi puntare dei ragazzi che hanno 22 23 anni barra 24 se tu cominci a prendermi perisic di maria pogba tutta gente che 30 anni oltre il programma si esaurisce in due anni e quindi da questo punto di vista mi preoccupa il non programma di questa società questa società non ha programmi e si sa benissimo che quando tu non hai un programma prima o poi prima o poi la paghi questa situazione qua e noi stiamo stiamo viaggiando praticamente in in a vista da tre anni quindi se le notizie delle nell'ultima ora per cui pogba perisic e di maria sono i tre obiettivi reali in questo momento sia avremo una squadra probabilmente più forte già dall'anno prossimo che in italia potrà puntare anche a vincere ma non stai buttando le basi per nessun futuro quindi rimango un po un po basito da questa situazione tu prendi allegri per fare un programma in quattro anni invece già dopo il primo anno bocci tutto il programma che ti hai rifatto per ripuntare di nuovo sui giocatori pronti che siano già con un'esperienza di vittorie per provare a vincere subito senza programmazione per il futuro è un controsenso però purtroppo se se dovesse andare a finire così avremo una squadra già per l'anno prossimo pronta a vincere in italia ma in europa saranno bocconi amare anche l'anno prossimo detto questo ragazzi ci vediamo stasera dal capitano con con me il capitano attenti a quei due adesso ci saranno gli appuntamenti del giorno naturalmente con con spacca alle 18 e parleremo più o meno di queste cose qua ci si vede stasera ragazzi un abbraccione a tutti